Ciao a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati in questo mio nuovo video Io sono Alex e questa è Alex Oggi sono pronta per partire E finalmente ragazzi Sto aspettando questa vacanza più di Natale E niente, ho un hotel 3.000 kg qua dietro La maglietta di Queen con un pantalone nero E le nuove converse di cui sono letteralmente innamorata E niente, abbiamo l'imbarco alle 6 Quindi sono le 5.30 e ci stiamo incamminando al porto Io parto con l'appuntamento in terrazzo E questi saranno più vlog della Sicilia Io parto con il libro appunto di Felicia King Con l'appuntamento in terrazzo Sono qua, le cuffie E niente, alle prossime clip Dopo due ore passate in macchina Siamo finalmente arrivati sulla nave Dici qualcosa? Bellissima Bellissima Proprio coi fiocchi Titanic Tu dici qualcosa? Speriamo di non fare la fine del Titanic Mamma mia Poeta Tu cosa ci racconti? E adesso facciamo un po' il giro Non so quanto si possa sentire Che sto facendo anche una grossa figura di merda Però vabbè, non siamo sulla barca Niente, qua c'è il porto di Napoli Che è stupendo A distanza di un paio d'ore Sono nel bagno della cabina Ma vabbè Siamo appunto nella cabina, ripeto, abbiamo fatto il giro della nave, vi lascio qualche punto E adesso sono le 10, ed è un quarto, sono quasi le 10.10 E noi stiamo appunto sul letto senza connessione a internet, quindi siamo senza cellulari E io ho finito appuntamento interazzo di Felicia Kingsley E sto iniziando due buoni di affitto E se sono ancora sbira ci vedremo più tardi, se no ci vedremo domani mattina Sono di nuovo qui, nel gesto E sono mezzanotte meno 10, ho iniziato due buoni di affitto Mi sta piacendo, sono cinquanta pagine Mi piace E questo sia l'ultimo vlog della serata in cui siamo ancora in cabina Ecco, ciao E niente Ciao, giornate, andiamo domani Siamo arrivati a Palermo Dopo tutta la notte in nave Mi sono distrutta Come dicevo, abbiamo, almeno io, dormito malissimo Il letto era molto scomodo, però, vabbè E adesso sono, che ore sono? Le 6.30 Le 7.20 Siamo in macchina Tra poco sbarchiamo Siamo in macchina Eccoci, adesso è mezzogiorno e 04, sì, e abbiamo appena visto l'hotel in cui dobbiamo andare, bellissimo, non beh, bellissimo, 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 però è lì in un bel hotel, un bel villaggio, e niente, adesso andiamo a pranzare, dato che la camera se l'abbiamo alle 5 di oggi pomeriggio, e per adesso non sono ancora pronta, quindi ci vediamo dopo. Eccoci a distanza di 5 ore circa, perché ho ripreso l'ultima volta le 2, quando vi ho messo la clip della granita, e niente, adesso sono le 7 e mezza, e noi stiamo preparando per andare a cenare, perché stiamo morendo di fame, letteralmente, questo è l'hotel, con le converse, questo, anello 1, anello 2, e vabbè, la contenda che vi ho fatto vedere nel video dove vi mostro le cose del mio compleanno. Oggi è pranzo, mi sono dimenticata di vedere cosa abbiamo fatto, cosa abbiamo mangiato, però è tipo un piatto di pasta preso al service, tra virgolette, e niente, prima giornata, un hotel che sembra quasi un campeggio, sta andando piuttosto bene, in questi giorni vi farò vedere, vi farò un tour dell'hotel. Grazie per la partecipazione, grazie, grazie che ci stiamo messi da con... E non si vede una minchia, allora, io direi di concludere il vlog qui, dato che sono 24 ore che registro. Disperata! La disperazione, e niente, vi farò altri vlog in questi giorni per portarvi con me in questo viaggio nella Sicilia. E niente, ragazzi. Fatti chi è in amicizia lungo, a fatti! Niente, io sono Alex, questo era Alex Word, e noi ci vediamo in un prossimo video.